Ha toccato anche la provincia di Arezzo la maxitruffa dell'olio greco ed extracomunitario, spacciato invece per extravergine d'oliva Toscano DOP, una frode per la quale adesso sono indagate decine di persone. Sono stati infatti notificati a 31 produttori di olio extravergine di oliva, titolari di frantoglie e rivenditori, gli avvisi di conclusione indagini nell'ambito di un'inchiesta che aveva preso avvio nel marzo 2016 dalla procura di Grosseto per associazione a delinquere finalizzata ad un numero indeterminato di delitti di frode in commercio anche con falsi documenti. Gli accertamenti dei carabinieri forestali assieme al nucleo investigativo Nipaf avevano riguardato quattro province toscane, tra cui anche Arezzo e quella di Foggia. Secondo l'accusa, grazie all'attività fraudolenta, veniva messo in vendita olio extravergine di oliva di origine comunitaria, in prevalenza greco, contrabbandato per olio extravergine toscano IGP e per extravergine italiano. La frode ha riguardato due annate particolarmente delicate, quella del 2014-2015-2015-2016, quando a causa della mosca olearia i quantitativi di olio extravergine d'oliva prodotti in Toscana non erano stati così abbondanti da evadere le richieste del mercato.